Owen Sforza che adesso è il favorito 278 al comando si porta Mary Cockerill che conquista in breve lo steccato davanti all'immensità poi Ray Sider con all'esterno Owen Sforza in seconda linea Otrekart incerta in abbio ed in coda Noble Baby siamo a metà gara con Mary Cockerill sotto l'attacco esterno da parte di Ray Sider dietro i due all'esterno Owen Sforza più indietro Otrekart sta passando a centropista Owen Sforza nei confronti di Ray Sider mentre a largo cerca di risalire Otrekart nel tratto finale Owen Sforza mantiene la meglio mentre per il secondo posto Ray Sider controlla Otrekart quarta Mary Cockerill vediamo le immagini con il numero uno Owen Sforza a bersaglio con Samuele Diana in sella nei confronti di numero cinque Ray Sider che ha difeso la posizione dall'attacco finale di Otrekart quindi terza corsa di Napoli uno cinque tre il probabile ufficioso arrivo che ha difeso la posizione dall'attacco